buongiorno ragazzi e ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video allora inizio dicendovi eravamo rimasti ieri notte che arvi stava dormendo e quindi mi ero un attimino preoccupato e sono andato a letto lo sapete quando ha deciso di uscire dalla sua tana per far casino alle 5 di mattina adoro è stato dalle 5 alle 6 e mezzo in giro ha mangiucchiato un pochino anche se i croccantini per gatta ancora li ha lasciati un po lì ha fatto un po di cacchine ha fatto un po di pissatine e poi è tornato dentro la sua tana ora mi sono svegliato ovviamente ho ricontrollato un tutto devo cambiare un tappetino che è un po sporchino e rie dentro la sua tana ma oggi chiamerò il la clinica veterinaria perché voglio essere sicuro che non abbia niente ho paura infatti che abbia qualcosa che non va dato che ora è vero che ce l'ho solo da due giorni questo sarebbe il terzo e che ci vuole pazienza però l'unica cosa che mi avevano detto tutti e che ho visto anche con i video trovati su internet sapevo che i ricci di notte quando tramonta il sole si svegliano dormono tutto il giorno e poi si svegliano e iniziano a far casino vanno sulla ruota e stanno tutta la notte un po in giro il mio no la ruota ieri notte non l'ha nemmeno toccata quindi ho paura nel senso che poi voglio andare da questo veterinario perché appunto gli fa un check up completo e mi dice se comunque è normale cosa devo fare per farlo tranquillizzare un po di più oggi in più lo prenderemo anche e l'obbligheremo a stare con me perché bisogna fargli annusare il mio odore ora io però spero che sia dentro la casetta perché non lo so non vedo più niente perché come ben potete vedere lui cosa ha fatto ha messo tutta la paglia all'entrata per non farsi vedere da me lo stronzetto ho chiamato la clinica sono stato un po in attesa vabbè ma è normale mi hanno passato il numero di un dottore che appunto è esperto di richi africani ho chiamato questo numero ma al momento è occupato quindi riproveremo dopo e riproveremo fino a quando non mi risponde arveino mio si è salvato un'altra volta perché ho chiamato il dottore il veterinario è stato super 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 gentile super disponibile e mi ha spiegato veramente tante cose e tutto mamma che viso che c'ha si vede che non ho dormito stanotte ma scusate ho un nuovo baby adesso allora praticamente lui mi ha sconsigliato di prendere un appuntamento adesso perché mi ha detto che è già un minimo traumatico per il riccio aver cambiato di casa e quindi adesso bisogna lasciargli un attimino il tempo di ambientarsi in questa nuova casa ambientarsi anche un po con me e quindi ha detto è super sconsigliato fare una visita adesso dato che l'hai preso ora praticamente mi ha detto di aspettare almeno una settimana e poi mi ha spiegato anche le varie modalità di visita come funziona tutto quanto e quindi il mio arveino non vedrà oggi il veterinario non lo vedrà nemmeno tra qualche giorno lo farò visitare tra una settimana e mezzo massimo due devo vedere un attimino con gli impegni che ho e comunque mi ha detto guarda stai tranquillo se dorme per la maggior parte del tempo se vedi che comunque il comportamento di questi giorni è un po strano un po diverso perché appunto ha molta più paura del normale perché è un ambiente nuovo si deve ambientare e quindi deve fare le cose gradualmente piano piano l'importante mi ha detto è che mangi che dorma e che lo senti respirare ho fatto ok sì quello sì e quindi meno male cioè era una cosa che sapevo già in realtà però sentirmelo dire da un esperto mi ha calmato molto anche perché boh sapete eh sono qui da solo una cosa nuova un'esperienza nuova un figlio nuovo e quindi qualsiasi cosa che tipo vedi che è un po più diversa dal tra virgolette normale mi viene l'ansia no come per dire cosa sto facendo di sbagliato come mai non fa questo come mai non fa quest'altro comunque io le information adesso ce le ho tutte e vi siete salvati anche voi da questo viaggio traumatico nel trasportino per highway e ora direi che è arrivato il momento di andarli a dar noia perché è dentro la tanetta che in realtà non lo trovavo che sono andato lì ho alzato un po la paglia per vedere cosa faceva se dormiva o se aveva semplicemente paura non lo trovavo facevo ma ho mamma ora mi è scappato ma come ha fatto a scappare non c'è neanche un buco come ha fatto è impossibile è un fortino questa villa e insomma era lì dentro tutto nascosto sotto la paglia insomma un casino adoro lo amo però è sveglio quindi è arrivato il momento di fargli sentire il mio odore ecco io ammone finalmente ora ti do qualche croccantino così qua no no non hanno nascosto These d'izio in un evolved basso dicendo che ti piacciono questi non ci piacciono questi nm شKM i lombricini? no? non è rile faura a modi? ma non è rilevita ma non è rilevita? mi ha rilevita? non è rilevita? non è rilevita? non è rilevita? un minino amore e sono cambiato la maglia perché ho detto nel caso in cui si dovesse aprire un pochino facciamo delle foto che non hanno paura ti lascio un attimo così oh va vai secondo te se si guardano avanti così si riconoscerà come delfini guardati sì ma guarda se deve mangiare solo le carote ma che malino sta crollando no dove pensi di andare ok amolino sei tornato a casa ma io non so perché ti infili sempre nell'angoli amore adoro ma adesso che l'ho portato tipo in collo e in collo in toscano significa in braccio si è aperto e ho visto che è un maschio yeah rido buonanotte amoria stasera stasera si rifà la stessa cosa nel senso che lo riprenderò lo porterò sul mio divanino e ci parlerò quanto sarà scemo mi ricino che dorme sempre nei posti più disparati fatto sta ragazzi ora parlo un attimo l'ultimo minuto su di lui perché effettivamente sono tre giorni e ne sono cosciente che parlo solo di Harvey ma mi dovete capire è il mio nuovo amorino e quindi lo amo ma ah ne ho approfittato per prendere uno starbucks perché è venuto Marco qui a casa gli ho fatto conoscere Harvey e devo dire che Harvey stronzetto perché sa che io sono il tipo geloso ha preso subito da mangiare dalla sua mano mentre a me ci ha messo un po' come avete visto l'altra volta e una cosa che non mi va bene è che non gli piacciono i croccantini non lo so se è per via della marca o tutto quanto ma me l'ha dato il proprietario del negozio quindi mi sembra strano ora non vorrei averlo già abituato male con la frutta con i vermetti e quindi sto cercando in tutti i modi di fargli mangiare questi benedetti croccantini fatto sta anche se non gli garbano è così gli dirò poi al veterinario anche quella me la segnerò e ragazzi adesso chiudiamo un attimino argomento Harvey lo rivedremo poi stasera perché così faccio due manche di amicizia con lui stasera forse sarà un po' più sveglio anche perché oggi gli ho rotto un po' le palline ho finito di lavorare al progetto segreto quindi super presto preparatevi chi è che mi sta chiamando mi sta chiamando Diego riecco i people from Ibiza dovevamo parlare perché adesso torna finalmente alleluia e vi stavo dicendo il mio progetto segreto è ufficialmente pronto sta aspettando solo me e quindi nulla vi volevo solo fare questo reminder che ormai sapete è un anno che vi rompo gli zebedei con questo progetto segreto ci sto lavorando tantissimo yetto sang tutto è pronto preparatevi ci sarà il video e spero che sarete fieri di me contenti per me e che mi darete anche una mano e mi sosterrete insomma sono molto contento 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 e sì questo settembre sarà un po' impegnativo per me tra adesso che sono una mom now di harvey tra qualche settimana che abbiamo il trasloco nella casa nuova tra questo progetto segreto insomma non ho fatto le vacanze ad agosto continuerò a non farle a settembre ma mi piace questa vita piena e parlando con Diego prima in realtà mi ha messo anche un tarlo nella testa di iniziare anche una nuova cosa ma ci devo pensare molto seriamente e molto approfonditamente prima di parlarne con voi perché dal momento in cui voi sapete che io vi inizio a parlare di una cosa significa che o la decisione l'ho già presa o ho già iniziato questa cosa di cui vi parlo quindi per ora ancora lì è un pensiero che ho e che mi ha fatto avere Diego ci penserò un pochino e poi ovviamente come sempre come tutto vi farò sapere gli eventuali sviluppi sono veramente happy sì effettivamente sì tra tutto questo ambaradam tra il veterinario che mi ha un po' calmato tra Harvey che oggi tutto sommato si è comportato anche bene sì finalmente sono un po' più calmo sono un po' più sereno e adoro adoro tutto settembre devo dire è iniziato veramente nel migliore dei modi raghi sono precisamente le 21 ero qua mi sono messo con il quadernino di Chiara Ferragni che ormai è diventato diciamo una specie di reminder di tutto quello che devo fare tra youtube progetti segreti e varie cose per il riccio quindi ho terminato l'organizer della settimana e direi che posso mangiare tanto l'altro dorme ancora c'è una specie di svuota la spesa perché sono rimasto con pochissime cose e quindi mi farò un po' di pasta per come primo col tonno ovviamente perché un po' di proteine ci vanno sempre bene e poi per il secondo prenderò l'affettato che è da finire poi questo lo stracchino non lo ando ok e poi ruberò un po' di carotine di Harvey perché adoro ah le olive ci sono anche ok ok mi volevo fare le uova ma in realtà me ne era rimasta una e è scaduta da due giorni quindi non vorrei sentirmi male in realtà io non so nemmeno come funziona questa roba perché io vado molto guardo molto le scadenze ma mi ricordo tipo che quando vivevo con mi nonna e mi sono trasferito poi qua a Milano lei mi aveva detto guarda che comunque la scadenza era data così gli devi dar retta però per qualche giorno dopo la scadenza puoi continuare a mangiarle ma le uova non lo so non mi fido ma nel caso fatemi sapere voi qua sotto tramite commento se le uova per esempio nel mio caso che sono scadute da due giorni sono ancora mangiabili oppure no sono anche molto contento perché durante il mio lavoro di organizer mi sono fatto anche la nuova immagine di copertina di questo canale che però vedrete presto non adesso ma vedrete presto sono molto soddisfatto perché la prima volta che faccio una cosa del genere da solo è super semplice come la volevo ma siccome avevo l'idea qua in mente non ho voluto farla fare da nessuno ho provato le mie competenze e devo dire che sono molto soddisfatto non vedo l'ora di pubblicarvela per farvela vedere pasta cruda è il segreto per mantenersi giovani e belli no non è vero lo sto scherzando in realtà non lo fate a casa ho anche appena scoperto che è arrivato qua a Milano per qualche giorno un mio amico della Toscana e quindi dopo cena stiamo organizzando di andare a fare una breve bevutina un drink in compagnia così ci rivediamo dato che tipo no non un anno perché quest'anno sono sceso in Toscana l'ho visto però comunque è da molto che non ci vediamo tanto Harvey è in ottime mani nella sua casa mega spaziosa adoro che riccio fortunato ad avermi come padrone come padre come mamma e poi tornerò a casa ovviamente però mi devo fare la boccia perché la cosa bella di quando c'è Harvey qua in casa è che non ho più acceso il condizionatore quindi la mia gola ringrazia la mia bolletta ringrazia ma sudo quanto uno screanzato adoro sì sì ho creato una nuova ricetta nel senso che non l'avevo mai fatta farfalle olio extravergine d'oliva tonno senza l'olio in più l'olietto dentro la scatolina un po' di pepe nero e olive nere snocciolate adoro lo amo muy bueno allora ragazzi a parte il fatto che da quando in qua in via Lecco non possiamo più prenderlo da bere in piedi ma bisogna sederci ma è successo di nuovo ci hanno tirato una coca cola addosso moglio rido rido semplicemente perché oggi sono in Prada e mi sono salvato troia ok raghi sono tornato a casa allora Harvey in realtà questa volta la ruota non l'ha proprio toccata ma ho visto che comunque è venuto un po' in giro perché ha tirato fuori tutta la sua paglietta della Tana che è lì proprio per nascondersi io ogni volta che non riesco a vederlo proprio da nessuna parte ho proprio la fobia che si è scappato ho notato che ha mangiato tutta la mela il suo cibo ma le crocchette proprio un gigarbano ora gli cambierò l'acquetta perché è un po' sporchetta e ho spostato la casa un po' più in qua perché secondo me troppo vicino al letto era un po' troppo male e ora prima di andare a letto la sposterò un altro po' più verso il muro e niente giorno 3 andato ora mi metto un attimo al computer per finire delle cose lavorative e poi mi guarderò qualche serie tv può dar senta un po' che non guardo Netflix devo iniziare cioè devo vedere l'ultima stagione almeno la prima parte dell'ultima stagione di La Casa di Papello visto che è uscita quindi potrei iniziare quella non vedremo sperando che Harvey magari dia dei segni di vita anche se comunque adesso abbiamo la prova detta dal veterinario devo avere pazienza è normale che sia un attimino spaisato e quindi comportamento un po' così per oggi è tutto ragazzi ragazzi mettete un piaccio a questo video se vi è piaciuto e se vi ha fatto compagnia anche oggi noi ci vediamo a questo punto domani oh che bella questa luminosità dovrei fare tutti i video così iscrivetevi al mio canale se ancora non lo avete fatto e andate anche su Instagram mi raccomando perché ci sono tutti i mini video di Harvey come non lo avete mai visto ci vediamo domani con un nuovo video ciao ciao